C'è voluto solo un anno per costruirla, ma il quartiere la stava aspettando da molto più tempo. È stata infatti inaugurata la nuova scuola media di Via Adriano, nell'omonimo quartiere. Un taglio del nastro che in realtà arriva con qualche settimana di ritardo dal momento che l'istituto è già frequentato da diversi alunni delle prime, che da settembre sono entrati nelle nuove aule. Per quest'anno scolastico saranno solo loro, ma dal prossimo, il 2022-2023, si entreranno a regime con numeri ben diversi. È una scuola che è in grado di ospitare 15 classi di scuola secondaria di primo grado, quindi 5 corsi. Attualmente stiamo ospitando 4 classi prime, abbiamo iniziato così il 13 di settembre, però contiamo nel giro di due anni di arrivare a regime, quindi di ospitare 300 studenti. È una scuola molto bella, molto colorata, ci sono arredi innovativi. E quindi c'è un ambiente favorevole all'apprendimento. È molto importante per i nostri studenti venire a scuola contenti ed essere tranquilli. Una scuola non solo spaziosa e colorata, ma anche all'avanguardia nel campo della sostenibilità ambientale. Con la classificazione di Nearly Zero Energy Building, la scuola ha infatti l'etichetta degli edifici ad alta prestazione energetica, con pannelli fotovoltaici, teleriscaldamento e un impianto di climatizzazione e ventilazione che garantirà caldo in inverno e fresco in estate. Costo complessivo dei lavori 9 milioni e 375 mila euro, ma essere riusciti a completarla in appena un anno, secondo il sindaco Beppe Sala, è un segnale importante anche nella sfida per i fondi del PNRR. L'inaugurazione è importante perché è una scuola attesa in un quartiere che ha bisogno, ma soprattutto la cosa positiva è che è stata realizzata in un anno. Ora, il governo dice che ci sono 18 miliardi e mezzo per nuove scuole. Bisognerà dimostrare di saperle fare in fretta, per cui questa scuola, che è nuova, moderna, rispondente ai requisiti ambientali che il governo pone aperta alla cittadinanza e può essere una buona dimostrazione che a Milano le cose, quando serve, sappiamo farle in fretta, per questo è veramente un'inaugurazione molto importante.